Ricostruire e rilanciare la fiducia nel futuro dopo le sofferenze vissute durante la pandemia di Covid. Questo è l'invito del Presidente della Repubblica Mattarella affidato a un video messaggio per gli italiani all'estero trasmesso da Rai Italia. Nadia Zikoski. Siete stati vicini alle sofferenze del nostro paese anche da lontano. Mattarella parla a tutti gli italiani all'estero, li ringrazia per l'unità e la solidarietà mostrata nelle difficoltà della pandemia. Una prova, dice il Capo dello Stato, che ha mostrato il senso civico e la dedizione agli altri di cui l'Italia è capace. Il virus ha superato le frontiere e cambiato il nostro modo di vivere, ma ci ha reso consapevoli di avere un destino comune. Soltanto la conoscenza condivisa e un'efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i paesi può permettere di sconfiggere la malattia. Piano piano si va verso un ritorno alla normalità, dice Mattarella e con nazionali all'estero. Anche dei collegamenti aerei, ma le difficoltà della lontananza hanno avuto un peso importante sulle nostre comunità. Alleviato dalla rete consolare e dalle ambasciate, ora è il momento di ricostruire. Adesso l'impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro. L'andamento dell'epidemia in Italia 252 i nuovi casi. L'andamento dell'epidemia in Italia 252 i nuovi casi. all'epidemia in Italia 252 i nuovi casi. . Grazie a tutti.